ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video oggi siamo qui 54esima partita che vedo quest'anno nuovo evento sappiamo tutti dai commenti iscrivete al canale bene vento juve allora vi faccio un video dove non vi ho fatto bene vento juve e non vi ho fatto neanche atalanta per una ma ho deciso siccome mi sono dimenticato di bene vento di non farvi però due vi un video unito come faccio sempre quando mi dimentico ma vi farò un video su bene vento e juve e dopo dopo questo quando finirò questo caricherò invece quello di atalanta verona bene vento juve finito sull'uno uno apre i giochi morata la juventus e quando la partita nel primo tempo stava per terminare per eliminare il primo tempo arriva letizia e pareggia il match e con anche la chiusura del match definitiva bene vento juve 1 a 1 poi al vigorito che ci sta ci sta tutto anzi per quello che ha dimostrato il bene vento nel secondo tempo più del del primo tempo poteva anche starci una vittoria del bene vento perché no juventus che a mio parere sempre quello il problema juventus che pur attaccando avendo molti uomini offensivi non è molto incisiva difende bene infatti si vede è la migliore difesa insieme al verona preso sette gol si vede però ha comunque sempre preso un gol dallo spezia un gol dal crotone un gol dal bene vento un gol da quello un gol un gol che vai a finire che non vinci e così è stato la juventus che prende poco ma anche segna anche poco tralasciando il 3 a 0 dal tavolino partite dove la juventus ha fatto supremazia è stato qui quattro gol quello spezia i tre gol con la samp e i due col cagliari tre quattro partite ha fatto tanti gol ma le altre ma almeno per cinque sei partite la juventus ha fatto uno due gol uno due gol quindi a mio parere anche se la juventus ha più uomini offensivi se va se andate a vedere un letto di statistica la juventus ha più uomini offensivi che difensivi però è meglio la difesa che l'attacco e soprattutto la cosa che la juventus deve migliorare che è penosa e imbarazzante il centro campo infatti vai a vedere arthur rams i giocatori del genere oggi hanno fatto una partita pessima pessima cioè bruttissima partita proprio brutta 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 bruttissima infatti sono stati sostituiti lo vedi quando un giocatore non gioca lo vedi partite che nel primo tempo io penso che sia spazi ad arcobarino ecco 20 minuti della juventus 25 diciamo 20 e 20 quei cinque minuti diciamo metà primo tempo juve seconda metà di primo tempo del benevento e infatti nella prima metà del primo tempo ha trovato il vantaggio la juve nel momento migliore e invece nel momento migliore del benevento trovato il pareggio il benevento e poi secondo tempo era la juventus che attaccava il benevento che ha formato la difesa cinque la linea cinque che si alzava al fuori dell'area di rigore e concedeva molti fuori giochi alla juventus dava molti fuori giochi alla juventus e maniera molto intelligente e ripartiva avuto anche qualche due o tre occasioni con in pruta la padula per anche provare a vincere per il benevento ovviamente già questo un grandissimo risultato descrizione dei gol juventus che passa in vantaggio con chiesa che fa questo lancio svettaglia tutto il campo a sinistra per morata junita lo tiene completamente male morata fa finta di tirare sul destro poi se ne va sul sinistro calcia palo col è la juventus dopo il 21 minuti va in vantaggio solo che però viene pareggiata prima da un'occasione di schiattarella che va per andare a sinistra stessa sul destro e calcia e shesny fa una bellissima parata e poi sul calcio d'angolo arriva calcio d'angolo palla che arriva fuori il schiattarella che fa questa scuccaiata acqua all'uomo che si è inserito arthur che spazza male perché con me lì bastava che arthur spazzava il palone lontanissimo e lì finiva il primo tempo ed eri già ancora avanti 1 a 0 sbaglia rilancio arriva le tizze che proprio sullo spicchio dell'area di rigore cioè proprio stava proprio quasi fuori era appena entrato l'area di rigore da questo lato tiro una botta col destro al volo palo gol golazzo di letizia che sicuramente migliori in campo infatti se dobbiamo andare a fare i tre migliori in campo e i tre migliori e i tre migliori di juve benevento come faccio sempre ad ogni video alla juventus nomino morata sicuramente ha fatto la sua partita nomino di bala perché ho detto per me la juventus in queste ultime partite sta vincendo per gli attaccanti perché sia centrocampo e qualcuno è per il terzo uomo nomino delict per il secondo tempo diciamo che i tre penso che siano i tre meno peggio cioè i tre che hanno giocato gli unici tre che hanno giocato penso morata di bala e delict il resto penuso per l'evento nomino letizia che è sicuramente il migliori in campo gol poi ha difeso benissimo a quadrato non lo faceva girare non li faceva non li faceva vedere palla proprio gliela nascondeva ogni volta che giocava ogni volta che quando lo sfondava letizia lo bloccava sempre e nomino in pruta perché mi è piaciuto molto sia in fase difensiva sia in fase offensiva e sia quando è stato spostato terzino destro in fase difensiva e siccome la difesa è stata buonissima nomino il leader della difesa del benevento greek perché anche greek ha difeso bene ma anche barba è quando è stato spostato perché nella partita in zaghi ha spostato molte volte la difesa l'ha spostata prima quando si è infortunato quando si è infortunato il difensore caldirola prima quando si è infortunato caldirola e ha spostato la difesa poi si è infortunato e ha messo omaggio poi è uscito maggio e riuscito è entrato maggio poi è uscito di nuovo e ha spostato di nuovo la difesa poi stava pareggiando e ha messo la difesa a 5 alla sposta la difesa l'ha continuamente cambiata e alla fine è riuscito a portare il pareggio a casa comunque che vedete canale è ottimo pareggio per noi ben evento io 1 a 1 morata e letizia e adesso vi faccio il video di atalanta a verona